... nel Livinamore addirittura, mi sembra. No, no. Partiti! In vantaggio Blaugrana davanti a Miss Clodovi, Lamistades, Mavred, Balligadi, No Kidding, Country Format, Sutri Antico e Design. Dopo 300 metri di corsa, in vantaggio Blaugrana davanti a Amistades, Miss Clodovi, Lamavred, Country Format, Balligadi all'inizio della curva. In vantaggio Blaugrana davanti a Amistades, Miss Clodovi, Lamavred, Balligadi, No Kidding, Country Format. Poco prima dell'ingresso di Tura è sempre in vantaggio Blaugrana davanti a Amistades, Lamavred e Miss Clodovi. E i cavalli entrano in dirittura con Blaugrana in vantaggio, avvicinato da Amistades, seguono Mavred, No Kidding, Country Format. E sempre in vantaggio Blaugrana davanti ad Amistades, Mavred all'interno e Blaugrana all'esterno a Amistades. Seguono Mavred a centropista, passa Amistades, attaccato all'esterno da Mavred, all'interno è Blaugrana, passa Mavred davanti ad Amistades, Blaugrana e No Kidding. Questa è una finezza sensazionale di Carletto Fiocchi, come quella precedente. Lo stesso schema gli ha fatti morire in lotta gli altri due e poi ha colpito in una maniera inesorabile, con un senso del traguardo fantastico. Abbiamo assistito ad una corsa qualsiasi, modestissima, per carità, ma nobilitata da tre fantini eccezionali che sono veramente il nostro orgoglio. Grazie a tutti.